buongiorno a tutti l'altra volta abbiamo visto come creare un blog in pochi minuti adesso vedremo come creare un sito in pochi minuti la differenza tra sito e blog è che il blog linea di massima ha dei contenuti dinamici va la dire la sua home page cambia il momento stesso in cui si pubblicano nuovi contenuti mentre il sito è in linea di massima statico vale a dire rimane immutato visto che i contenuti si aggiornano soltanto una volta ogni tanto chiaramente il blog è anche un sito quindi c'è l'insieme dei siti compiene contiene anche l'insieme dei blog detto in forma matematica dunque per creare un sito un sito statico quindi non dinamico come un blog usiamo un altro servizio di google gratuito che si chiama google sites dunque bisogna accedere a google con un nostro account se qui non ci fosse stato ancora fatto il login si va su accedi per entrare in questo caso io ho già fatto il login con mio account qui si digita google sites si va su invio e questo è il servizio di google per creare i siti statici ci si clicca sopra io avendo fatto già il login entro già con il mio account vedete non ci sono siti creati con questo account conviene andare su nuova versione di google sites perché è più carina è più semplice per chi non ha grande dimestichezza con i linguaggi di programmazione quindi invece di andare su creare il sito con questa vecchia versione conviene andare su nuova versione di google sites perché con la nuova versione sarà più semplice creare un nuovo sito si clicca sopra si cambierà la grafica diventerà più diciamo così più moderna se vogliamo usare questo termine si va qua in basso su più per creare il nostro primo sito e questa è la come dire l'editor del sito qui si mette il titolo della prima pagina chiamiamo nome del sito qui vedete si può passare anche dal titolo la intestazione sotto intestazione piccola ma lasciamo intestazione qua su queste su queste tre schede ci sono tutti gli strumenti per aggiungere i contenuti al nostro sito quindi in immetti possiamo aggiungere del testo si aprirà questa questa finestra in cui aggiungere del testo possiamo per esempio io adesso non è che mi metto a digitare un testo lo copio direttamente da qua un testo standard che si chiama Loren Ipsu lo incollo e questo abbiamo aggiunto del testo possiamo aggiungere anche altre cose possiamo caricare delle immagini per esempio questa questa immagine potrà essere anche ridimensionata come vedete possiamo anche aggiungere dei video si clicca per esempio qui su youtube io con questo account non ho dei video caricati con questo account però si può scegliere un video qualsiasi di youtube digitando una parola chiave per esempio wild wild nature si va a squì ed ecco qua ad esempio selezioniamo questo video seleziona ed ecco il video inserito nella nostra pagina questa è la home page qui sito senza titolo possiamo dargli un titolo diciamo chiamiamolo sito di prova e diciamo questa è la prima pagina che abbiamo creato possiamo anche naturalmente cambiare il tema vediamo qua su temi possiamo passare a un tema diplomatico vedete visione liscio qui possiamo anche inserire una nostra intestazione tipo di intestazione oppure si può cambiare l'immagine si seleziona un'immagine oppure si può anche caricare un'immagine dal nostro computer mettiamoci un koala ecco fatto l'immagine come vedete viene automaticamente adattata alle dimensioni della intestazione e questa diciamo così che è la home page del nostro sito però un sito non è fatto si può fare un sito anche di una sola pagina però facciamo un sito di più pagine allora andiamo qua su pagine e andiamo su più per raggiungere una pagina una nuova pagina chiamiamo la pagina 1 si va su fine ecco la pagina 1 adesso si può editare come abbiamo fatto con la home page per esempio si va sempre su immetti casella di testo copiamo un nuovo testo poi possiamo caricare delle immagini ancora possiamo ridimensionare possiamo mettere anche quelli che si chiamano i collegamenti i collegamenti sono dei link che se uno ci clicca sopra viene rimandato a un'altra pagina web si seleziona quello che si chiama anchor text oppure non mi ricordo in italiano come si dice testo di ancoraggio ecco si si va qua sul su questa icona per inserire il link e si indigita il nostro indirizzo mettiamo che sia questo qua ecco fatto si applica quando qualcuno clicca su questo su questo link aprirà questa questa pagina questa è la pagina 1 allora andiamo ancora su pagine possiamo aggiungere una pagina una sottopagina della pagina 1 andando qua sul menu si può aggiungere una pagina secondaria la pagina secondaria chiamiamola pagina 1.1 anche qui quando si può andare su immetti per inserire il testo adesso inseriamoci un video di youtube video di youtube con la incorporazione del codice per esempio prendiamo questo video qua mio di youtube si va su condividi si va su incorpora qui si seleziona il codice del video si va su copia quindi si va qui su incorpora codice di incorporamento si incolla il codice di incorporamento si va su avanti e si va su immetti e questo video verrà mostrato nella pagina adesso andiamo su pagina e ritorniamo nella home page nella home page e creiamo un'altra pagina prima abbiamo creato la pagina 1 e una sotto pagina della pagina 1 chiamata pagina 1.1 adesso che creiamo la pagina 2 pagina 2 andiamo su fine nella pagina 2 mettiamoci una immagine all'inizio diciamo i tulipani magari aumentiamoli un po' mettiamo un po' di un po' di testo si va su casella di testo andiamo su pagina creiamo una sotto pagina della pagina 2 chiamiamola pagina 2.1 stavolta si va sul menu qui aggiungi pagina secondaria chiamiamola allora pagina 2.1 fine dovremo anche editare questa pagina mettiamoci ancora un po' di testo si va qua su immetti casella di testo testo e stavolta mettiamoci una mappa qui vedete si possono caricare i documenti da google drive da youtube da documenti presentazioni voglio esempio di google drive moduli grafici eccetera inseriamo una mappa inseriamo una posizione diciamo che so giardino boboli firenze ecco fatto questo è la mappa del giardino di boboli di firenze si va su seleziona ecco inserita una mappa nella nostra pagina ritorniamo andiamo ancora su pagina e andiamo nella home vedete qui si è creato automaticamente un menu andando su pagina 2 c'è anche pagina 2.1 andando su pagina 1 c'è anche pagina 1.1 si può passare dalla home alla pagina 2 la pagina 2.1 alla pagina 1 e alla pagina 1.1 con tutti i contenuti che noi abbiamo inserito a questo punto che cosa possiamo fare possiamo anche pubblicare il nostro il nostro sito prima di pubblicarlo però andiamo qua su anteprima per vedere un po' come viene fuori ecco l'anteprima del nostro sito si potrà vedere il sito come si vede dal computer dal tablet e dallo smart questa è la visualizzazione da computer vedete guardiamo la pagina 2 adesso guardiamo come si vede dal tablet ecco come si vede dal tablet vediamo la home come si vede dal tablet adesso vediamo come si vede dal smartphone ecco come si vede il sito dal smartphone il menu si trova qua vedete si può passare da una pagina all'altra torniamo alla visualizzazione da computer se siamo soddisfatti di quello che abbiamo creato possiamo pubblicare il nostro sito quindi si va su pubblica si va su pubblica e dobbiamo dare questo sarà l'indirizzo iniziale del nostro sito size google e questo è il mio account idea del computer ed internet naturalmente se avete un altro account verrà dato il nome del vostro account l'indirizzo prende in genere il nome del sito sito di prova ma possiamo anche scegliere un altro un altro indirizzo per esempio che so proloco proloco per esempio se vogliamo fare un sito per il nostro paese in cui siamo nati o in paese in cui andiamo in vacanza andiamo su pubblica qui l'importante è che ci sia il segno disputa ma in questo caso c'è sempre il segno disputa perché questo per esempio è il mio indirizzo e come se non c'è il mio indirizzo ci sarà il vostro indirizzo quindi non ci può essere un altro indirizzo identico a questo si va su pubblica e adesso il sito è pubblicato però non sarà possibile visualizzarlo altro che da noi noi possiamo lasciare questa opzione oppure fare in modo che possa essere visto da tutti che è chiaramente la cosa più importante si va qui su copia il link del sito ecco fatto questo è il link del sito della home del sito e adesso però dobbiamo fare in modo che sia visibile a tutti si va quindi su condividi con altri ora noi possiamo scegliere solo alcune persone con cui a cui far vedere questo sito ma la cosa diciamo così più comune è che questa persona possa essere che questo sito possa essere visto da tutti quindi si va su cambia e si mette la spunta su chiunque può trovare e visualizzare la versione pubblicata questa è l'opzione diciamo così pubblica per rendere pubblico il sito quindi si va su salva e su fine chiaramente si può anche fare in modo di mostrare questo sito solo ad alcune persone o a quegli indirizzi inserendoci l'indirizzo email si può anche inserire le persone che possono modificare questo sito vale a dire magari dei nostri collaboratori oppure altre persone che fanno parte della nostra stessa associazione per la quale abbiamo pubblicato il sito adesso questo indirizzo del sito se io apro una pagina in incognito senza login io inserisco l'indirizzo del sito ecco che viene aperto il sito così questo sito sarà visibile a tutti vedete ci si può spostare alla pagina 2 la pagina 2.1 alla pagina 1 alla pagina 1.1 i video che sono stati inseriti eventualmente potranno essere visti direttamente dalla pagina senza andare su youtube così come la mappa potrà essere organizzata e usufruita direttamente dal nostro sito e non andando sul sul sito di google maps e questo è tutto vedete in pochissimi minuti siamo riusciti a creare un sito che in cui abbiamo scelto soltanto l'ultima parte dell'indirizzo ma volendo possiamo anche indirizzare questo sito a un nostro indirizzo c'è un nostro indirizzo www.miodominio.com per esempio però bisognerà acquistarlo sempre da google con la spesa di 12 euro all'anno magari questa cosa qui la potremo vedere un'altra volta nel caso in cui questo tutorial abbia il successo che spero